Siamo con un ospite d'eccezione, Sebastiano Gangemi, tecnico regionale per la Sicilia, presente oggi alle gare dell'Unione Sportiva Legnanese. Come mai questa scelta innanzitutto? Intanto buongiorno e grazie per l'ospitalità. Abbiamo scelto questa gara per preparare i campioni italiani. Abbiamo fatto una gara in Toscana due settimane fa, lo abbiamo anche vinto con Giovanni Bartuccio e ora stiamo provando a fare un'altra gara di livello qui in Lombardia. Stiamo preparando il campione italiano che sarà il giorno 9 e cerchiamo di fare attività extra-regionale. Qual è il livello del ciclismo in Sicilia? Il livello del ciclismo in Sicilia? I ciclisti buoni ce ne sono. Siamo un po' poco perché il ciclismo, credo in tutta Italia, sta soffrendo soprattutto sulla strada. però ci difendiamo, cerchiamo di fare attività sia in regione, oggi c'è anche una gara a Caltanissetta e fuori regione come rappresentativa. Bene, grazie, buona gara e alla prossima occasione. Grazie.